buongiorno bella gente bentornate nel mio canale oggi vi porto un bagno di idratazione per i capelli questo bagno di idratazione ha un grandissimo vantaggio quello che combatte l'umidità di questi giorni con l'arrivo dell'autunno purtroppo i nostri ricci si perdono in niente perché con l'umidità ci rendono molto molto crespi e quindi questo bagno qua vi aiuta tantissimo i capelli vi durano fino a cinque giorni i ricci spettacolari è semplicissimo io ho preso una potete usare anche una padella ho messo tutti gli oli che ho a casa quasi tutti ci ho messo l'olio di argan l'olio di uliva l'olio di jojoba l'olio di avocado l'olio di semi di lino l'olio di karité che più avevo una mix di olio per anticaduta per i capelli l'ho messo l'olio di chia l'ultimo olio che ho preparato quello a base di rosmarino e tiodi di garofano che aiuta la ricrescita dei capelli olio di ricino ho messo praticamente tutto l'olio di mandorle tutti gli oli che ho a casa voi se non avete tanti oli potete utilizzare ad esempio l'olio extravergine e gli oli di semi di semi quelli per friggere che abbiamo a casa ho aggiunto anche il burro di karité che ho l'olio di cocco se avete a casa se non avete niente avete magari un avocado potete fare l'olio di avocado qualsiasi olio che avete a casa anche magari l'olio per il corpo che avete la che non usate qualsiasi tipo di olio l'importante è scaldarlo se ad esempio non avete nulla ma avete qualche cosa di rosmarino e magari la menta avete qualche chiodo di garofano mettete dell'olio extravergine ci mettete dentro chiodi di garofano e il rosmarino vi prende a freddo cioè lo scaldate un po ma non scaldatelo tantissimo ad esempio l'ho scaldato il giusto per poter sciogliere il burro di karité l'ho lasciato sul fuoco spento e sono andata a lavarmi i capelli era tiepido la cosa più importante quello di usarlo tiepido sui capelli perché così la sua il suo beneficio per i nostri capelli si è assicurato io sono andata ho lavato i capelli prima perché quasi tutti i trattamenti che faccio quasi tutti lavo prima i capelli perché prima di tutto quando sono bagnati metto meno ingrediente e la seconda cosa i capelli sono bagnati e assorbono meglio l'ingrediente che li mettiamo come vedete io vado ad applicare questo olio mix di oli sui capelli li metto solamente sulle punte ovviamente non metto nulla sulla radice piuttosto se avete bisogno un stimolo per la crescita dei capelli io vi consiglio di usare che io c'ho da parte sempre pronto dell'olio con rosmarino e aglio li sfrego proprio sulla sulla cute e poi dopo di che applico qualsiasi maschera o qualsiasi al volete applicare questo bagno di olio veramente il risultato è favoroso io gli ultimi due lavaggi ho fatto questa tecnica qua e mi sto trovando davvero bene adesso sono passati credo tre quattro ore perché sono andata a pulire casa e adesso vado a lavare i capelli non ho usato assolutamente nulla lo sciacquati solo con il balsamo adesso vado applicare il mio infuso che vi lascio qua sopra il link come lo preparo è a base di chiodi di garofano e rosmarino perché aiuta a fortificare i capelli e aiuta tantissimo alla crescita perché io ho notato questi giorni che mi stanno cadendo tanto i capelli col cambio di stagione e quindi io vado sempre a proteggere i miei capelli con questo infuso qua e veramente rende i capelli molto forti dunque adesso andiamo col styling uso la lola cosmetic che ho comprato l'ultima volta a me mi dura parecchio la lola cosmetic sì l'ho pagato 15 euro e 50 credo e mi dura almeno almeno tre quattro mesi tutti tutti adesso che con l'arrivo di l'inverno ovviamente i capelli li lavo molto meno di confronto dell'estate quindi li lavo una volta due volte alla settimana più due volte che una volta poi dipende ovviamente dal tempo che ho a disposizione e dipende come rimangono i miei capelli adesso vado a fare il styling col denman farò una sorpresa enorme per voi in questo styling perché ho usato il denman e come definire i ricci ma lo separati con il flexi brush perché mi è venuta in mente questa questa tecnica tecnica qua credo anche nell'altro video che ho fatto la domenica scorsa ragazze e ragazzi capelli mi sono durati ben cinque giorni ma cinque giorni belli con il bel riccio di finito riccio proprio fine fini fin tipo afro fine 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 guarda sono davvero contentissima e molto molto soddisfatta di questa tecnica che sto facendo che è veramente non sinceramente era stata solamente una prova piuttosto di separarli col mio pettine con i denti larghi ho detto ma sì dai lo separiamo col flexi e vediamo come che risultato da oltre il trattamento che ho fatto questa volta oltre trattamento che ho fatto l'altra volta con l'olio a base della maschera di banana che vi lascio qua nel link sopra che è veramente addio umidità addio crespo i ricci sono favolosi molto definiti e soprattutto combattono l'umidità e rimangono molto molto belli ovviamente grazie anche alla lola cosmetic i capelli sono super idratati fissati definiti belli durano qualche giorno e comunque grazie anche alla vasellina che io metto sempre fine trattamento che veramente dà un risultato favoloso sui capelli il mio grande vantaggio con la vasellina è davvero mi ha cambiato proprio la forma dei capelli mi ha cambiato e la durata dei capelli semplicissimo basta prendere un pochettino non tanto scaldarli tra le mani abbastanza bene e poi applicarlo o lo potete applicare adesso in questa fase oppure lo potete fare tranquillamente fine trattamento quando i capelli ce l'avete già asciutti ad esempio io lo uso spesso adesso il segretuccio il segreto più grande se avete il flexi blush a casa e avete il demon guardate ragazze ragazzi vi dà un ottimo davvero ottimo risultato anche se si vede come fosse che non sono definiti quando sono bagnati i capelli però da asciutti da asciutti il giorno dopo guardate è una cosa favolosa 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 a fini video vi lascerò un tratto l'ultimo tratto dei capelli dopo cinque giorni senza lavarli e vedete la differenza perché veramente i ricci rimangono bellissimi e soprattutto da già al secondo giorno volume pazzesco e la durata durano abbastanza è quello che io appunto che non diventano crespi che non diventano umidi con l'umidità diventano crespi separati frizzi diventano proprio una cosa inguardabile eccoci per la gente qua questo è il secondo giorno del lavaggio perché realmente ieri non stavo tanto bene quindi ho finito di asciugarmi i capelli non sistemati mi sono completamente dimenticata di fare questo passaggio e farvi vedere il risultato comunque come vedete i ricci sono guardate i ricci sono molto fini molto piccoli e molto 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 belli davvero molto belli sono molto carini c'è tantissima umidità fuori ma proprio tanta la questione del fatto che ho fatto il trattamento con l'olio il bagno di olio e da tantissima idratazione perché è stata una scelta mia realmente il segreto e la idratazione durante il styling quello che mantiene il riccio bello e la seconda cosa l'ho fatta come un trattamento a lungo termine perché così se io non lavo i capelli per quattro giorni i miei capelli comunque continuano ad essere idratati comunque sto facendo un trattamento abbastanza intensivo per poter lo respiro per poter avere un risultato migliore per il prossimo lavaggio comunque guardate che meraviglia bella gente se vi è piaciuto questo trattamento questa maschera state molto iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e soprattutto se avete qualche domanda qualche richiesta mi raccomando scrivetemi e seguitemi su instagram e facebook e voglio ringraziare tantissimo tutte le persone che mi iscrivono che mi lasciano almeno un like che sono iscritti al mio canale grazie per il vostro sostegno e grazie a voi veramente mi date un grandissima soddisfazione e mi stimola a fare altri video grazie a tutti e buona domenica vi voglio bene guardate che belli sono davvero molto molto belli però direi che è ora di lavarli perché sei giorni veramente mi sento una barbona